Allora, Ezio, passa, bravo, passa la palla a Paola, ti cedo il Ciac, punta bene in camera, guardati, tieni sotto la testa, Ciac, è buona la prima. Vado? Vai. Ciac, buona la prima. Grandissimo Ezio. Oggi i nostri ospiti, due ospiti d'eccellenza, sono Ezio Rana e Paola Negrini, Ezio, segretario generale della fondazione BPL, e Paola, curatrice e responsabile di BPL Arte e Arte in Atrium. Inizierei con te Ezio, se ci vuoi spiegare brevemente che cosa fa la fondazione BPL e quali sono i progetti che avete in corso. Sì, grazie innanzitutto Jacopo per l'opportunità che ci hai consentito. Prima di iniziare a illustrare le attività della fondazione volevo veramente farti i complimenti per questa iniziativa che hai attuato, che dà spazio e visibilità a molte associazioni meritevoli che operano spesso nel silenzio e con opere veramente meritevoli. Quindi lo spazio che tu hai voluto riservare a questa iniziativa è sicuramente molto apprezzato e ritengo sia doveroso farti i necessari riconoscimenti perché è un'iniziativa di valore. Quindi grazie perché dai spazio e visibilità al territorio lodigiano. Detto questo, introduciamo il lavoro e le attività della fondazione. Contestualizzo un attimino la fondazione Banca Popolare di Lodi dalla sua genesi. La fondazione nasce esattamente il 7 luglio del 2008 su iniziativa della Banca Popolare di Lodi, in seguito agli accordi di fusione che allora intervennero con la Banca Popolare di Verona e Novara, dove nacque successivamente il Banco Popolare e successivamente, diciamo con l'ulteriore fusione con Banca Popolare di Milano, il gruppo si è trasformato in Banco BPM. La sede della fondazione si trova presso il centro direzionale del Banco BPM a Lodi, in via Polenghi-Lombardo 13, è un ente di diritto privato, opera in totale autonomia operativa e gestionale. La fondazione, diciamo, fin da subito è stata luogo di, fin dalla sua nascita, luogo di relazione, di dialogo e di ascolto dei bisogni, diciamo, del territorio. Originariamente l'attività era stata, sugli interventi, a sostegno degli interventi, era stata, diciamo, programmata attraverso l'utilizzo del bando. Quindi noi i primi, diciamo, quattro anni la fondazione ha operato direttamente con i bandi, quindi, diciamo, tutte le associazioni, gli enti che volevano usufruire di contributi partecipavano ai bandi, diciamo, che temporalmente venivano messi pubblicati e messi a disposizione. Con i contributi naturalmente necessari. Successivamente è stata fatta una valutazione differente da parte del Consiglio di Amministrazione e quindi si è deciso, diciamo, di seguire un'attività che fosse, diciamo, più consona al processo, diciamo, valutativo delle richieste e al tempo stesso che possa fornire, diciamo, delle certezze sui tempi di risposta e quindi si è passato sostanzialmente dall'operatività del bando all'operatività degli interventi diretti. Quindi in questo momento la fondazione opera direttamente con il Consiglio di Amministrazione che valuta tutte le richieste di contributo che pervengono dalle varie associazioni del territorio lodigiano. Perché dico territorio lodigiano? Perché la fondazione, diciamo, ha un ambito territoriale di competenza. All'interno del gruppo Banco BPM operano sei fondazioni. Ognuna ha una propria competenza territoriale. Il nostro ambito di intervento coincide con la provincia di Lodi e la diocesi di Lodi, quindi, diciamo, tutti i comuni appartenenti alla diocesi di Lodi, oltre al territorio di riferimento della direzione territoriale del Banco BPM che ha sede a Lodi. Questo cosa vuol dire? Che la direzione del Banco BPM ha competenza, sì, sulla, diciamo, la provincia di Lodi, ma oltre alla provincia di Lodi, Pavia, Mantova, Parma, Piacenza e tutta, diciamo, la Liguria. Quindi un territorio molto ampio sulla quale, naturalmente, la fondazione si inserisce nell'ambito, appunto, degli accordi statutari che prevedono la possibilità di intervenire anche nel territorio di riferimento della direzione territoriale. La fondazione, diciamo, opera e si propone come elemento propulsivo per sostenere tutte quelle iniziative e progetti che consentono, diciamo, uno sviluppo del tessuto sociale, economico, socioambientale e socio-culturale, naturalmente, del proprio ambito di riferimento. Interviene nei settori dell'istruzione, del culto, della ricreazione, dell'assistenza sociosanitaria, della tutela ambientale e della ricreazione. Quindi, diciamo, un ampio margine, diciamo, di intervento caratterizza la nostra attività. Noi possiamo operare in via, diciamo, prioritaria, autonomamente, oppure attraverso le collaborazioni con soggetti pubblici e privati appartenenti al terzo settore, fornendo contributi a sostegno delle proprie iniziative e progetti. Come elemento di sussidarietà, la Fondazione legge i bisogni del territorio e impronta la propria attività per fornire ad essi le proprie scelte e le proprie risposte, le proprie azioni. Prevalentemente si focalizza su iniziative che promuovono e sostengono lo sviluppo della dignità della persona, cercano di tutelare e, diciamo, sostenere le situazioni di maggiore, diciamo, criticità, soprattutto che riguardano le fragilità della persona umana e cerca anche, diciamo, di dare sostegno a tutte quelle iniziative che consentono, chiaramente, lo sviluppo del territorio di riferimento. Nel, diciamo, dal 2008, anno di inizio di attività della Fondazione, fino allo scorso anno, quindi fino alla fine del 2022, la Fondazione ha sostenuto oltre 1.400 progetti su tutto il territorio di riferimento, erogando oltre 17 milioni di euro. Ma la cosa più importante, al di là, diciamo, del valore economico che è significativo, è il fatto che questi 17 milioni di euro che la Fondazione ha erogato a controparti, diciamo, terze, hanno consentito di portare a terra progetti il cui valore economico è quantificabile in circa 30 milioni di euro. Quindi il nostro contributo ha consentito veramente di portare e realizzare progetti molto importanti sul territorio, dando sostegno anche in continuità su progetti veramente molto ambiziosi e che, grazie al nostro contributo, sono riusciti poi a concretizzarsi. Perfetto Ezio. Io, tra i vari progetti che non hai citato, vorrei sottolineare, per esempio, la vostra partecipazione nel progetto dell'Emporio Solidale, che ricordo avete contribuito a formare a Lodi, giusto? Certo. Che quello è un bellissimo progetto, io ricordo di essere stato all'inaugurazione per voi per realizzare il filmato ed è stato veramente un qualcosa di interessante e ha coinvolto più associazioni e più enti del terzo. Grazie Jacopo per aver ricordato questo importante progetto che, tra l'altro, valorizza proprio un progetto di rete territoriale. È proprio il vero progetto di rete territoriale che la fondazione è riuscita, diciamo, a portare avanti, divenendo socio fondatore della fondazione di partecipazione Casa della Comunità, congiuntamente all'associazione Progetto Insieme, al Movimento per la lotta a fame nel mondo, a Caritas Lodigiana e a Famiglia Nuova Cooperativa Sociale. Quindi un progetto di rete veramente importante che ha portato alla nascita dell'Emporio Solidale, una vera rivoluzione dal punto di vista, diciamo, del sostegno alla fragilità della persona, che, diciamo, contribuisce anche a fornire dignità alle persone stesse che, diciamo, si rivolgevano al Centro Solidale per il diritto al cibo, diciamo, con cadenza settimanale per ricevere i pacchi alimentari, quindi famiglie in difficoltà, spesso anche molti italiani in questo momento, che si rivolgono appunto a sostegno attraverso le Caritas del territorio. e, diciamo, attraverso l'Emporio Solidale si è data la possibilità a queste famiglie di evitare di mettersi in coda regolarmente durante la settimana, ma conferendo, diciamo, una tessera punti possono rivolgerci a questo emporio che sostanzialmente è un minimarket solidale, un piccolo supermercato, dove con la loro tessera punti possono, diciamo, acquisire i prodotti, diciamo, di cui necessita la famiglia per il loro sostentamento, quindi fornendo dignità alla persona, al tempo stesso fornire anche un'educazione, diciamo, sia finanziaria, sia, diciamo, di tutela della persona. Quindi è un progetto, diciamo, molto ampio e che richiede chiaramente un sostegno particolarmente significativo dal punto di vista economico. Molti partner, diciamolo, anche, diciamo, imprese molto importanti, diciamo, nel settore food, stanno contribuendo e fornendo, diciamo, il proprio supporto, perché il numero delle famiglie che regolarmente si rivolgono all'Emporio Solidare è in continua crescita. Attualmente stanno gestendo, diciamo, la fondazione di partecipazione, Casa della Comunità, sta gestendo circa 1300 famiglie solo nel territorio lodigiano. Presentano difficoltà economiche, quindi difficoltà proprio dei bisogni primari. Ecco, tu hai parlato di fare rete, poi arriviamo anche da te Paola. Hai parlato di fare rete e su questo ricordo un altro appuntamento che ho organizzato tutti gli anni, che è la giornata del volontariato. E quest'anno ho avuto il piacere di partecipare anche a quella, ed è stata veramente una bellissima giornata, dove l'interazione tra tutte le varie associazioni, eccetera, ha portato a qualcosa di bellissimo, secondo me. Certo, la giornata del volontariato è un appuntamento, diciamo, storico, ideato dalla nostra fondazione attraverso la collaborazione del Centro Servizi Volontariato, della quale la Presidente è Luisella Lunghi, altra cittadina di Sant'Angelo. E quest'anno, per la prima volta, siamo riusciti ad allargare la rete collaborativa coinvolgendo la Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, organizzando quindi un evento molto sentito, molto atteso da tutte le associazioni di volontariato. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di ospitarne 80, dopo due anni, chiaramente, di stop dovuto, evidentemente, alla crisi pandemica. Diciamo, c'è stata molta aspettativa, molta partecipazione, molta presenza, proprio perché l'associazione di volontariato è la vetrina che consente loro, diciamo, di poter dialogare con la cittadinanza, di poter dialogare con tutti i visitatori che nell'arco della giornata transitano circa più dai 5.000 agli 8.000 visitatori nell'arco della giornata, quindi una vetrina molto importante che consente loro di presentarsi e soprattutto presentare le importanti attività che portano avanti il sostegno del territorio. Quindi un apportamento che fortunatamente siamo riusciti a riorganizzare e che, naturalmente, cercheremo sempre ulteriormente di integrare, di migliorare da quest'anno in poi. Perfetto. Allora, Fondazione BPL non è comunque solo solidarietà, ma è anche arte. E in questo caso intervieni tu, Paola, con la BPL Arte, quindi uno spazio espositivo sempre nello spazio Tiziano Zalli, quindi dove c'è, diciamo, la sede della BPL di Lodi. E oltre alla sala espositiva c'è anche un altro piccolo spazio. Vabbè, parlaceli tu, facciamo prima. Allora, grazie. La Fondazione Banca Popolare di Lodi ha fra i suoi obiettivi anche la valorizzazione culturale, storica, artistica del territorio e da un lato sostiene associazioni, enti che si occupano di questo tipo di attività, dall'altro è intervenuta negli anni anche direttamente. uscendo un attimo dalla questione BPL Arte, Arte in Altro, per esempio nel mondo dell'editoria abbiamo pubblicato una collana di volumi dedicati ai tesori dell'Odigiano, alle bellezze artistiche dell'Odigiano, quindi non solo sosteniamo chi le pubblica, ma l'abbiamo fatto anche noi. E per quanto riguarda specificamente il mondo dell'arte, siamo intervenuti con questa possibilità per gli artisti locali, e non solo perché abbiamo avuto anche esposizioni a livello internazionale, di questi due spazi. Diciamo uno spazio un pochino più contenuto, che è quello della nostra sede operativa, dove noi lavoriamo, dove ci sono i nostri uffici, e che di fatto è l'atrio della nostra sede, e infatti la rassegna si chiama Arte in Atrio, dove organizziamo alcune mostre di carattere un po' ridotto, se vogliamo. E poi abbiamo quest'altro spazio di 800 metri quadrati, che è la BPL Arte, dove ospitiamo artisti, associazioni culturali, associazioni artistiche, che vogliono esporre le loro opere. In particolare la BPL Arte è uno spazio, come dicevo, di 800 metri quadrati, dove c'è disponibile anche un bookshop di libri d'arte, ma non solo, perché ci sono anche romanzi e altri tipi di libri. C'è uno spazio dedicato alle conferenze, che adesso sta ripartendo, perché ovviamente con il Covid abbiamo dovuto sospendere un po' tutto, abbiamo limitato molto anche le inaugurazioni, insomma è stato un po' un momento complesso. Quindi adesso stanno ricominciando anche ad esempio le conferenze, per cui fra poco le presenteremo nei prossimi mesi. e poi abbiamo appunto una hostess sempre disponibile, una nostra collaboratrice esterna, che si occupa proprio di tenere aperto lo spazio e di curare il bookshop. Abbiamo avuto, è dal 2011, non è da subito che abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività, abbiamo portato 160 mostre fra BPL Arte e Arte in Atrio. Ricordiamolo, tutte gratuite. Tutte gratuite. Che non è una cosa da poco il giorno d'oggi. Sì, sì, allora noi mettiamo noi gratuitamente a disposizione lo spazio e poi comunque anche i visitatori, a parte per il caso del festival della fotografia etica, che è una cosa particolare, i visitatori entrano gratuitamente a vedere le nostre mostre. Dicevo appunto oltre 160 mostre, oltre 100.000 visitatori, perché poi li contiamo anche, e quindi abbiamo anche questo valore. Per cui diciamo che sostanzialmente si è offerto alla città uno spazio espositivo che spesso è venuto a mancare. Ecco, per cui siamo entrati un po' a far parte del circuito dei luoghi artistici della città di Lodi e comunque del Lodigiano. Ecco, si è appena concluso il festival, No, festival, il concorso di psicolografia. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Adesso, alla 31 di marzo, venerdì 31 marzo, inauguriamo la mostra di Angelo Noce, che è un artista cremasco, ma che ha appunto esposto già in tutta Italia. e a Lodi è già stato altre, almeno due volte, se due volte in altri spazi negli anni. Poi invece il 29, nel nostro spazio Arte in Atrio, inaugura Mario Diegoli, anche lui con una mostra dedicata ai paesaggi. Lui è uno scultore, fondamentalmente crea delle installazioni e saranno delle installazioni adatte, create per il nostro spazio, che è un pochino più contenuto rispetto alle opere che lui fa normalmente. Perfetto. Io non posso far altro che ringraziarvi di essere stati qua con noi. Vi ringrazio per ciò che fate, perché quello che fa la fondazione e quello che ha fatto anche a livello personale, sinceramente, non posso far altro che ringraziarvi, perché nel momento del bisogno siete stati vicini e quindi questo è molto apprezzato. e oltre a questo non posso far altro che invitare i Sant'Angiolini e non che ci vedranno a partecipare a queste bellissime mostre. Io ho partecipato a mostre fotografiche, mostre di pittura, ce n'è di tutto e per tutti i gusti, quindi invitiamo tutti a venire a trovarvi in BPL Arte, sul sito della Fondazione BPL, piuttosto che sui social, trovate tutti gli aggiornamenti su tutte le nuove mostre e tutto quanto. Pagine social sia per BPL Arte che per Fondazione Banca Popolare di Lodi, per cui si possono vedere le iniziative entrambe. Jacopo, grazie. A nome anche del Presidente Duccio Castellotti e di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, un ringraziamento particolare a Sant'Angelo TV per l'opportunità che ci ha fornito di poter rappresentare l'attività sia in ambito tradizionale della Fondazione, soprattutto nell'ambito artistico, curato in modo direi eccellente dalla dottoressa Paola Negrini. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Grazie.